Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che a livello europeo vedrà condizioni sempre buone all'attitudine mediterranea, nonostante un po' di variabilità e soprattutto gran caldo in Grecia e in Spagna. Per quanto riguarda l'Italia, sta una giornata discreta anche se, come vi dicevo, atmosfera un po' instabile, quindi nelle ore pomeridiane si formeranno numerose acquazioni temporali, specie nelle zone interne. Entriamo più nel dettaglio, cominciamo dal nord Italia dove la mattinata sarà buona, ma poi ecco arrivare degli acquazioni su Alpi, Prealpi, sulle vicine zone pedemontane, nel tardo pomeriggio qualche scroscio di pioggia raggiungerà anche le coste del Levante Ligure. Nell'Italia centrale anche qua si parte bene, ma poi in giornata si formeranno dei temporali nelle zone interne, temperature comunque nella norma, infine anche al sud dopo una mattinata più che discreta, nel pomeriggio ecco spuntare acquazioni temporali, comunque fenomeni per lo più di breve durata e localizzati. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com